M. Rossi, 0-0 qui sul campo del settimo, partita combattuta. Sì, partita combattuta, lo sapevamo che era un campo difficile anche per le dimensioni, comunque loro hanno fatto una buona partita, non è stata una bella partita, però è stata combattuta, poche occasioni da gol, forse nessuno ha parato da parte dei portieri, ci è mancato lo spunto sia noi che loro, quella giocata che in queste partite ha fatto la differenza, è un campo dove se non sbaglio hanno vinto solo Caronnese e Varese, poi hanno fatto 5 pareggi.